ed eccoci di nuovo qua un altro nintendo switch e allora questa nintendo switch è arrivata perché hanno già provato a riparare il connettore usb e come si vede non esiste più non c'è più e la console sembra che non caricasse o non avesse qualche problema insomma adesso guarda il foglio non si può più ricaricare in quanto il connettore usb c è rotto a causa di una caduta e poi sembra esserci un problema ai joy con allora andiamo a smontare la console e lasciamogli anche il vetro un attimo più protetto visto che ci siamo che è messo bene sufficientemente bene insomma diciamo allora andiamo a smontare e andiamo a vedere la situazione oi 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 o signore questo questo è un caso gravissimo ragazzi aspettate che vi faccio vedere già da adesso o sarà un lavoro immenso o signore non so se si sia fattibile la cosa allora microscopio luce aspettate solo che metto a fuoco prenderete paura ecco qua ragazzi ogni singola pista se n'è andata ogni singola pista eccetto una e due qui è da rifare praticamente tutta la porta fino adesso non me ne sono mai arrivate mi intendo switch in questo stato come potrebbe anche essere che chi ha provato a togliere la perché io vedo anche qui punto di di ancoraggio che non esiste più parte della cosa non so se sia effettivamente che magari la porta sia completamente staccata e abbia causato tutto sto macello qua oppure non mi sembra di vedere né flussante né lavorazioni aria calda qua si vede che c'è una crepa sembra sia una crepa sembra di sì allora cosa facciamo allora per prima cosa è possibile anche che se ne sia andato questo perché abbia fatto cortocircuito un po dappertutto con le piste strappate e allora facciamo così andiamo a vedere un attimo allora banco multimetro che voltaggio abbiamo 0 ok la batteria è completamente morta quindi non posso provare ad accendere la console prima di tutto voglio provare ad accendere la console e vedere se funziona tutto perché se poi ci sono ulteriori problemi e a lei la spesa qua è piuttosto alta allora andiamo batteria di ricambio dammi una batteria dove sei batteria eccola qua ok batteria di ricambio mettiamo la batteria un attimo voglio vedere che voltaggio aveva 4,1 quindi siamo a posto e allora possiamo tentare di accendere la console se poi c'è qualcosa che non va ok no la console si accende bene vediamo se c'è qualche messaggio di errore o altro ah anche l'M92 se n'è andato maledizione maledizione eeeh ok e niente bisogna cambiare pure questo allora stacchiamo la cosa eeeh niente devo informare un attimo la persona che me l'ha mandata e vedere se vuole effettivamente ripararla al prezzo che adesso indicherò perché chiaramente mi ha chiesto per un preventivo ho fatto un preventivo ma non pensavo fosse così danneggiata quindi dovrò riformulare la cosa vedere se se gli sta bene oppure no eeeh e niente vi faccio sapere tra poco allora eccoci tornati e la persona ha accettato il nuovo preventivo quindi nessun problema ho qui sulla mia console ho testato ma come vedete anche qui allora c'è l'analogico da sostituire i due tasti superiori che sono rotti non funzionano ok quindi anche qua i controller dovranno essere ricondizionati eeeh ricondizionato la console rifatte tutte le tutte le piste ah mannaggia la caduta tutte le piste mi tocca rifare sarà un lavoro parecchio lungo parecchio lungo eeeh e cambiare l'M92 ma prima allora adesso come prima cosa allora intanto vabbè i joycon ok farò in un altro momento questi qua li metto tutto dove stava ok allora i joycon li teniamo da parte per la prossima per la prossima cosa la batteria adesso non mi serve mi servirà tra poco quindi adesso io vado a smontare tutto oi che succede doc così di punto in bianco mi dai problemi ok aveva boh gli ha dato qualcosa di matto eccetera ok allora ritornando smontiamo la scheda togliamo tutta la scheda e andiamo come prima cosa a sostituire l'M92 ok vedo che comunque la scheda è già stata tolta in precedenza perché ci sono cose che non non mi quadrano qui ma va bene lo stesso speriamo che non abbia disintegrato anche il il P13 dietro non dirmi che hanno hanno rovinato il filetto non riesce ad uscire la vite ok 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 adesso la scheda è fuori e purtroppo ci sono anche stati dei danneggiamenti qua c'è il buco per la vite spanato anche questo e anche questo quindi è una bella cosa proprio bella ma adesso non siamo più qui per questo allora adesso siamo qui per la scheda che dobbiamo andare a riparare allora come ho detto per prima cosa andrò a togliere il chip M92 ok eccolo qua sono già a fuoco massimo ok perché la console mi ha detto che ha un problema e adesso andiamo a verificare qual è questo problema qua mettiamo il multimetro e andiamo a misurare ok quindi modalità di iodo puntale rosso a massa ok andiamo a misurare questo è in corto questo è in corto questo è in corto questo sta bene questo è troppo basso questo sta bene questo sta bene ok allora può essere che questa misurazione qua allora se non sbaglio questo è correlato anche se non ricordo sempre male al chip P13 ok quindi adesso andiamo qua dietro andiamo a vederlo subito sempre puntale rosso a massa no P13 sta bene quindi ok è tutto relativo a M92 allora M92 ciao ciao diamogli un po' di flussante attorno per aiutare un attimino 450 gradi e andiamo a togliere M92 andiamo a mettere uno nuovo qui a posto qui a posto qui ok e anche qui ok molto bene un lavoro veloce e pulito ok adesso andiamo velocemente a misurare le cose di nuovo ok rosso su massa togliamo il beep in questo caso allora 43 va bene 28 va bene 43 va bene 29 va bene 40 va bene tutto ok molto bene allora M92 adesso è cambiato è tutto a posto e facciamo un test adesso andiamo sul banco il microscopio non ci serve più per il momento andiamo a fare la prova allora rimaniamo la scheda un attimino così intanto ha il tempo per raffreddarsi un attimo li mettiamo a posto sto filo ok mettiamo la batteria e mi serve anche il pulsante però collegato altrimenti non si accenderà mai ok allora adesso andiamo a vedere accensione dovrebbe fare lo startup anche più veloce infatti si rispetto a prima è più veloce ed ecco qua nessun errore ok la console è a posto funziona riesce a recepire informazioni da M92 correttamente vediamo mi ha detto che questa console è stata è stata spenta per un bel tempo un po' di tempo perché ha ancora il firmware 13.2.1 e ormai siamo il firmware numero 17 quindi siamo 4 firmware più indietro allora che dire andiamo a vedere un attimo se mi da la connessione internet si ok però vabbè non vedo niente perché non ho una rete wifi allora prendiamo il telefono andiamo con l'hotspot perché ho di recente avuto problemi con il mio modem wifi e sono passato ad un modem senza wifi e quindi allora aggiorniamo ok si l'ha trovata quindi internet va ancora perché ho fatto queste prove? semplicemente perché la console è caduta addirittura poteva avere anche problemi di schermo blu una console che cade non è non è poca cosa insomma specie se effettivamente dalla caduta ha ricevuto danni come avete visto allora ok andiamo a procedere alla ricostruzione totale allora eccoci tornati al mostro di riparazione che dobbiamo fare aspettate un attimino che mi metto a posto il microscopio perché qua conta forse allora per il caso magari uso devo forse utilizzare una lente diversa datemi un attimo di tempo che devo trovare la lente giusta ok vediamo se riesco a mettere no questo è il meglio che riesco a fare va bene e va bene allora questa è la situazione molto tragica molto tragica andiamo a grattare tutto il grattabile ok allora adesso tutte le tutte le traccette sono sono state bagnate con lo stagno adesso ricominciamo con la costruzione e in questo caso sarebbe idealissimo avere le strip già fatte in questo caso non ce l'abbiamo quindi andiamo ad utilizzare vecchissimo metodo di filo e basta quindi andiamo ad utilizzare io di solito utilizzo filo da 0,02 ma potrebbe andare benissimo in questo caso il 0,05 sì che purtroppo non ho quindi potrei utilizzare visto che comunque è una cosa uniforme potrei utilizzare il 0,1 che è grossino per quello ma siccome praticamente tutte le piste sono da rifare e avere un'altezza uniforme aiuta a questo punto non vedo perché non utilizzare il 0,1 se riesco a trovare il capo del filo allora ho anche aumentato la luminosità del microscopio in modo da riuscire a vedere anche meglio io stesso allora questo è il 0,1 come vedete può anche andare bene come dimensione quindi anche qui può andare bene ok procediamo questo è un filo che ha anche la protezione esterna quindi bisogna andare a prepararlo ma sempre flussante, stagno e tutto il resto grazie a tutti 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 tipo mezz'ora per fare tutto lunghina la cosa e se avete notato ho anche lasciato di proposito alcuni punti molto lunghi perché per l'appunto la connessione lì è troppo debole e allora metterò della maschera a sinistra e a destra adesso maschererò tutto prima pulisco chiaramente dopo metto la maschera per proteggere e mantenere i fili in posizione mentre gli metterò una nuova porta sopra e se dio vuole tutti i fili che ho messo rimarranno in posizione e dureranno per il tempo più lungo possibile sperando devo chiaramente avvisare il proprietario di non assolutamente smanettare sulla porta usb per nessunissimo motivo al mondo di fare le cose con più delicatezza possibile perché questi lavori qua possono essere duraturi sì ma se vengono trattati con la dovuta cautela insomma ecco ok speriamo bene cambiamo un ugello adesso perché non ho voglia di fare la pulizia con con spazzolini cotton fioc o altro qua se tocco qualcosa viene via tutto e mi tocca rifare allora io cosa faccio metto la porta in un punto scoperto ok così sopra qua c'è il tappetino e vado con l'ugello più piccolo che ho adesso posso anche togliere la lente mettiamo a fuoco ecco il lavoro in tutta la sua maestosità allora adesso come stavo dicendo vado con l'ugello più piccolo che ho ok e metto temperatura di 200 250 gradi ok con la massima aria possibile in modo che così vado a lavare via praticamente ti vado a spruzzare l'alcol isopropilico e mentre spruzzo l'alcol isopropilico il getto d'aria dovrebbe pulire da solo mentre il flussante si scioglie in questo modo qualsiasi residuo di flussante se ne va via i fili rimangono dove sono lo stagno non si scioglie e la scheda è perfettamente pulita e sgrassata pronta per accogliere la maschera va via un po di alcol chiaramente in questa maniera ma trovo che questa idea è la migliore in assoluto per per casi di questo genere allora adesso non faccio altro che mettere qua qua sopra una bella gocciolona ok e vado ad utilizzare questa gocciolona qui per sistemare le piste come vedete questa qua si muove perché è debolissima spero che mettendo la porta sopra rimane in posizione e che faccia il suo lavoro successivamente anche questa è quella debole se necessario gli faccio anche due strati perché qua sopra chiaramente adesso si si assesta e quindi non non copre bene una volta che ho dato la prima passatina magari gli do anche una seconda in modo che così i piedini rimangono lì fermi molto bene adesso andiamo con gli con i raggi uv lampada uv e andiamo a lasciargli tipo un minuto due minuti in modo che si indurisca bene e poi andiamo a ripassare sopra gli facciamo un altro strato e concludiamo va bene allora la prima passata è fatta adesso come ho detto gli vado a fare la seconda perché non mi fido non mi fido di alcune cose tipo questo come vedete se ne vuole venire via già adesso il che non è il massimo qui è solido ma qua no e non lo voglio così in questo stato e dopo anche questo mi pare va bene rifacciamo magari è un po troppo però sapete com'è meglio in più che in meno in questo caso spero non dia problemi quando vado a rimettere la porta perché troppo che ne so troppo sopraelevato non lo so ok vedremo vedremo dopo non posso fare predizioni adesso riprendiamo la lampada intanto facciamo lì un altro paio di minuti e ripetiamo e anche sulle altre zone che non ho fatto ecco e ci vediamo quando ho finito e che sono pronto a rimettere su la porta allora dove eravamo rimasti eravamo rimasti che ho mascherato praticamente tutto ok e adesso vado a fare una cosa di questo genere vado a prendere la mia la mia lama ok è un po spuntata anche tra l'altro e vado a raschiare i punti necessari ok magari per esempio qui che vedo che c'è della maschera sopra che non dovrebbe esserci in modo che così quando vado a metterci la porta sopra va a fare contatto in maniera migliore tanto la maschera è ai lati va bene che rimanga ai lati non è un problema che cos'è questo qualcosa che non si muove quindi ok può stare lì comunque dicevo raschiamo un attimino i punti che potrebbero essere un po problematici così assicuriamo alla porta una buona connessione direi che ha superato anche il test proviamo con lo spazzolino sto grattando energicamente questa volta faccio questo test anche per verificare che sia tutto in ordine che resiste sì direi di sì ha resistito quindi ok potrebbe essere una buona cosa ah maledetto quello lì ha ancora voluto venire fuori ok come vedete sotto sta bene questo qua eccolo qua ha voluto tornarsene fuori di nuovo ok quindi adesso cosa faccio lo spezzo qui ok ok in questo modo non ci da più fastidio vedete ho fatto bene a non fidarmi perché questo qua continuava ancora a voler venir via ok però come vedete qui è ancora coperto e ha resistito quindi non dovrebbe avere nessun problema vado un attimino a controllare con il multimetro ok se ho una lettura su quella su questo piedino qua allora questa è la massa questa potrebbe essere una di quelle linee per la porta per il collegamento tv quindi potrebbe essere collegata ma questo non lo potrò mai sapere finché non collego la porta e vado a misurare con la schedina per l'usb ok allora adesso facciamo così prepariamo i buchi prepariamo una porta la porta deve essere necessissimamente necessaria che abbia anche lo stagno sotto alla porta quindi prendo una porta e la andiamo a preparare mettiamo lo stagno anche qui in questo modo assicuriamo che sia con lo stagno che c'è qui quel poco che c'è insomma qui sui piedini che sia sulla porta arrivino a fare contatto e sperando di darci una buona connessione allora ok la porta è pronta spero che questo stagno sia sufficiente per il lavoro e niente adesso andiamo allora a metterci la porta sopra andiamo installarla e vediamo che cosa succede ok puliamo di nuovo tutto qua dal flussante gliene mettiamo di nuovo di fresco ok allora adesso prendiamo la nostra classica piastra di appoggio andiamo a metterci sulla scheda ok rimettiamo a fuoco bene siamo pronti per l'installazione andiamo pure togliamo un attimo il multimetro qua ok togliamo l'ugello dall'aria calda 450 gradi 50% di aria e ce l'andiamo già a mettere sopra così si scalda anche insieme la porta il metallo della porta che è importante andiamo a preriscaldare da lontano e poi ci avviciniamo sempre tenendo l'aria in movimento quando è pronta dovrebbe scendere da sola e collegarsi si spera alle piazzole che ci sono sotto il port in questo caso potrebbe essere necessariamente alta di suo proprio perché ci sono le piste che sono più alte rispetto al normale e quindi essere sollevata dalla scheda ai lati allora teniamo ben premuto qui mentre teniamo calda la porta ok aspettiamo che si raffreddi del tutto ecco come vedete hanno cambiato colore le gambe qui allora la porta adesso è saldata giù il problema è sapere se effettivamente tutto è venuto a collegarsi oppure se c'è qualcosa che ancora non è collegato il che poi bisogna andare a vedere a verificare cosa possiamo fare sperando che siano magari quelle sotto se sono tutte collegate io sono contento ok poi posso andare ad aggiustarmi da solo queste qua davanti giriamo un attimo la scheda allora vediamo aia aia caldo allora aia aia caldo 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 mi brucio le dita beh dai non sembra male non sembra male adesso bisogna vedere se i piedini si muovono oppure no insieme con il filo oppure se rimangono belli solidi o altro quindi questo è solido questo si muove questo si muove questo si muove questo è solido si muove si muove si muove questo è solido più o meno più o meno allora sono da ripassare questi qua ma adesso andiamo a verificare meglio tramite la porta tramite la schedina per la porta usb allora prendo un attimo la schedina ci mettiamo con visuale sopra del banco il multimetro ce l'avete già lì in alto ok sarà un disastro? si sarà sicuramente un disastro come avete visto purtroppo le connessioni sono un po' scarse ok e non ci possiamo fare molto togliamo da qua mettiamola pure qua appoggiata ok sappiamo che ci sono allora ci sono due file qua la parte superiore e la parte sottostante la parte superiore so già che ci sono dei punti che come avete visto non sono ben collegati quindi sappiamo già che ci saranno dei punti non collegati questo è collegato questo è collegato A11 e A10 dovremmo vedere dietro A11 VCC collegato A8 collegato A8 collegato di meno non è collegato di più è collegato A5 non è collegato VCC collegato A3 A2 non è collegato e poi l'ultimo che non sembra essere collegato ma questa è solo la massa a me non interessa la massa eeeh evviva dopo 20.000 tentativi finalmente ci sono riuscito e ora adesso tutta la porta è collegata adesso vi faccio vedere ok tenete d'occhio il multimetro lì sopra adesso gli dovrò dare una pulita immensa ok allora andiamo a vedere togliamo il bip per ora ok massa A11 e A10 ve li faccio vedere dopo perché sono per la P13 VCC A8 D meno D più A5 VCC A2 A3 sono per il P13 massa quindi davanti sono fatti tutti ora la parte più importante sotto massa massa B2 B3 sono per il P13 VCC B5 D più D meno B8 VCC B10 B11 e massa adesso andiamo dietro e andiamo a vedere ok allora adesso mettiamo in continuità ok andiamo a vedere A2 dove sta A2 eccolo che l'avevo trovato no eccolo qua ma ho lasciato il bip off ok A2 c'è A3 c'è dopo c'è A10 e A11 dopo c'è B2 e poi c'è B3 e poi c'è B10 e B11 quindi tutta la porta è stata collegata perfettamente finalmente tipo dopo boh saranno un'ora di tentativi ok ora la porta è solida come non mai cioè è di una solidità immensa bene andiamo a riassemblarla andiamo a riassemblare la scheda puliamo tutto facciamo la manutenzione anzi no puliamo adesso la puliamo già adesso alcol isopropilico una bella spruzzata puliamo tutto al microscopio potrebbe risultare un lavoro un po' bruttino però oh ragazzi veramente è un miracolo che si riesca ancora a lavorare su questa scheda qua perché avete visto i danni cioè è immensa la quantità di lavoro che ho dovuto fare per ripristinare un po' ok adesso la scheda è pulita andiamo a rimetterla su che così vediamo se continuerà a funzionare ancora per tanti anni oppure fortuna che fornisco garanzia su questi lavori perché magari di punto in bianco poi smette di funzionare la butto via io gli do fuoco se alla console se mi smette di funzionare così di punto in bianco dopo tutto il lavoro che ci ho ci ho speso per sistemarla se non mi funziona giuro gli do fuoco no scherzo però insomma è parecchio frustrante vedersi un lavoro così complicato puoi andare in fumo perché non si sta attenti insomma quindi massima attenzione massima cautela massima cautela per questa console e niente non posso dire altro bisogna solo stare attenti la porta è comunque solida ok è stata saldata a dovere il punto qual è? che se si muove un po' troppo adesso ci sono comunque le viti che tengono ferme eccetera ma se si muove un po' troppo dall'interno ok potrebbe arrivare a danneggiare le piste di nuovo che ci sono sotto quindi ecco è per questo che dico un paio di viti ancora e poi colleghiamo tutto ok e ora batteria che è completamente morta ma adesso la andiamo a caricare ok prova finale ok 3 2 1 ok sta caricando va bene molto bene molto bene ah finalmente ok e adesso prendiamo il cavetto giriamo il cavetto e si carica anche dall'altro lato quindi ottima cosa adesso la lasciamo caricare chiaramente perché adesso è completamente morta e tornerò dopo quando si sarà accesa ed eccola si è accesa siamo al 4% di batteria il che stupendo la ventola funziona ok allora adesso velocissimamente andiamo a staccare andiamo a metterla in dock ok allora dock segnale si funziona anche in dock ragazzi meraviglioso sto muovendo non succede nulla non perde connessione fantastico ok ok allora spegniamo adesso prima che si surriscalda un po' troppo riescono a stare accese per 2-3 minuti senza il dissipatore ok riassembliamo tutto e passiamo ai controller ma per questo video direi lo faccio terminare qui farò una seconda parte per il discorso dei controller perché già adesso c'ho dopo aver fatto tipo quattro ore e mezza di lavoro ho due ore oltre due ore di registrazione fatte e insomma la vedo dura rimpicciolire tutto per una per un tempo di visualizzazione ottimale di 20-30 minuti al massimo quindi ok il video lo faccio terminare qui fortunatamente la console è stata recuperabile e sono contento anche del lavoro che ci ho eseguito bello solido spero duraturo il più tempo possibile e niente iscrivetevi mettete un like commentate e come al solito sempre sotto in descrizione troverete i link per venirmi a trovare a contattare se vi servono riparazioni o altro quindi noi ci vediamo nella parte 2 ragazzi ciao e alla prossima